La scuola è rimasta legata ad una conduzione centrata sul preside, diventato dirigente da vent'anni ormai. Manca di figure, di collaborazione di figure intermedie, manca di organismi snelli, a cominciare dal consiglio di istituto, che è pletorico e quindi ha bisogno di un intervento modificativo massiccio. È un intervento di cui si parla da molto tempo, quantomeno dall'entrata in vigore dell'autonomia delle scuole e quindi a partire dal 2000, ma che ad oggi non è stato ancora realizzato. Nell'ambito in generale del pubblico, in modo particolare della scuola, si parla sempre di cambiamento, di modificazioni, ma il cambiamento viene spesso contraddetto da successivi interventi legislativi e quindi da controriforme.